Cambiare si può, lo ha ribadito Lodi in una sala carlo rivolta gremita come non mai, Pierfrancesco Maiorino è il candidato proposto in Lombardia dal centro-sinistra per scalzare dal seggio di presidente il leghista Tiglio Fontana. Sono tanti segnali che giungono dai cittadini lombardi che vanno in questa direzione. Li ha elencati Maiorino rispondendo alle domande della giornalista Luciana Grosso. Si va dalla sempre più lunga ed estremante liste d'attesa per accedere ai servizi della sanità che dovrebbero essere garantiti a tutti, ai perenni problemi del trasporto pubblico su ferro che fanno della Lombardia una delle peggiori regioni del nord Italia. Il declino che dura da anni in questi due settori della vita quotidiana ha bisogno di una sterzata che non può più attendere. Ne è consapevole Maiorino che ha già previsto nei primi cento giorni del suo auspicato mandato elettorale interventi immediati per dare risposte urgenti ad emergenze non più dilazionabili. In questo senso dal laboratorio politico della Lombardia, regione nella quale si è ricostituita l'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle, può arrivare tutto il paese un segnale di svolta nella gestione della cosa pubblica. A dare la carica con il suo esempio ci ha pensato anche Andrea Furegato. Il sindaco della città, che con un'ampia coalizione di centrosinistra ha scalzato una giunta di centrodestra deficitaria, ha chiesto a tutti di lavorare a fondo perché cambiare si deve.